bonjour les amis buongiorno amici siamo al museo della moto andiamo a vedere le moto un po di storia della moto dai che vi piace cominciamo con questa specie di di lappa come si direbbe da noi se messi è che il è il direttore di museo è il direttore del museo della moto di marsiglia esatto bonjour mesdames messieurs sono francois sassu il nonno della sardegna quindi ho l'honneur di vi mostrare un po' il museo della moto di marseille uno dei più grandi musei della france è uno dei più grandi musei della francia per quanto riguarda le moto e europea anche dell'europa noi abbiamo molte moto rappresentative del mondo entier ci sono delle moto che vengono un po' da tutto il mondo e ci sono anche molte moto italiane visto che moto guzzi ducati lamretta vespa ce ne sono parecchie e poi anche noi abbiamo da un museo anche le due prodotti unico iniziali del mondo delle moto straordinarie solo questo ci sono dei prodotti come questa moto straordinaria che è una moto sei un moto francese sa ne sei sei呢 moto francese è una moto francese come si s'appellate Si s'appelle MGC, Maurice Guiguet compagnie. Allora, vorrei parlare un po' di questa moto, perché è straordinaria, è considerata in tutto il mondo come la moto la più complessa e la più bella della sua epoca. È considerata come la moto più completa e più bella della sua epoca e a guardarla, effettivamente, è così. È una quattro cilindri. È la quattro cilindri, non so? Quattro cilindri. E ciò che è straordinario, potete vedere che non era un motore di moto all'inizio. C'era un motore d'avio. Ah, non era proprio un motore di moto, ma era un motore di aereo. Sì, un motore d'avio. Qui era montato sui piccoli avioni di chasse dell'armia francesa in anni 1920, in anni 1900. Era un motore montato sugli aerei da caccia francesi del 1920. Sì. Quindi, questo motore là è stato creato da M. Guillet da 1935 a 1938. E' stato fatto un comando per l'armia francese. È stata creata nel 1935 e 1937 ed era una moto utilizzata dall'armata francese, dall'esercito francese. Quindi, l'armia vedrà la guerra arrivare. è stata creata nel 1935. con la concezione del suo quadro, del suo chassi. Volevi vedere il riservoire. Il fa il riservoire di essenza. ma anche il prende il motore. Il supporta il motore e ferma il motore. Come si può vedere, diciamo che è molto particolare perché ha un telaio che blocca il motore e serve da riserva ed è una concezione un po' unica. Ecco gli strumenti di bordo che sono molto particolari. Guardate, c'è il contatore, il contatore. Ah, ci sono i contagioli. Il primo era il contachilometri, il secondo è il contagioli. Temperature d'huile, molto rara. Addirittura c'è anche la temperatura dell'acqua che è molto rara. 35-38, l'avevano 3 anni per l'acqua. Si, si. La temperatura era molto rara a quei tempi e era fatta appunto per gli aerei ed era molto rara su delle motore nel 1935-38. Qui c'è proprio il livello del carburante. Qui c'è proprio il livello del carburante. Qui c'è proprio il numero dei litri. C'è un contatore che gira all'interno. Altra particolarità, il motore. Il motore, abbiamo visto, è un motore d'avio. Ma se guardate bene come è montato, è montato all'interno. Il motore è là, l'acqua è là. È un motore d'aereo ma è montato al contrario nello chassis. Si. Quindi, ben intendo, il motore è all'interno. La boite è anche. E' equipata con un cardano. Ah c'era un cardano, non c'era la classica catena. E che velocità, che vitesse potete raggiungere? Che velocità? Non ne so la velocità. Perché c'è un motore che non ha mai rullato. E' un prototipo che non ha mai funzionato. Questo era concepito appunto per l'esercito. E' stata restaurata da una trentina d'anni. E' stata restaurata da una trentina d'anni. E' l'Italia è in un grande museo in Francia, che si chiama il Museo Verde nella regione Lyonnaise. Ma noi non lo sappiamo. Perché il motore, non lo sappiamo come si fa. Ah no, non si sa la velocità. E' abbia lourde. Ah sì, si, deve fare 250 kg. 250 kg di leggerezza o di pesantezza, come volete voi. E poi, sui, come riguarda il motore, per 1935, c'è il sélettore ai piedi. Ah, c'è il sélettore ai piedi, c'è alla droite? Alla droite. E a gauche, c'è il freno? Alla droite, c'è il freno. Oh, c'è un po' di tranche per noi, che siamo abituati al contrario, le freno alla droite. Ma in Italia c'è la Guzzi, c'è la stessa la stessa. E la prima era in alto, a destra. E questo, c'è la stessa la stessa. No, 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 no. All'epoca, no, 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 no. Non c'erano le vitesse, c'erano le vitesse... Ah, le vitesse con la... Tutte le vitesse degli anni 30, c'erano il riservoir. C'erano molto raro che le motos hanno le vitesse a piedi. E c'è la première? C'è una delle prime. E' una delle prime, negli anni 30, ad avere il cambio in basso, mentre di solito ce l'avevano, avevano una leva vicino la tanca nel passato, negli anni 30. Moto de course, Moto Guzzi, già in 35, avevano le vitesse a piedi. Ah, già, già la Guzzi aveva nella 35 la... il cambio a pedale. In effetti, c'erano per l'armè. E... Ma l'armè l'ha utilizzato? No, 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 no. L'armè l'ha ottenuto. C'è a dire che c'erano anche molti ore di formazione per poterlo servire. Mmm... E quindi c'erano molto caro. Quindi, se la moto è partita e che il soldato aveva lasciato, bisogna che l'arriere la recuperi. Ehm... Ehm... Eh, diciamo, una moto molto complessa. Ed è solo un prototipo. Sia perché costava molto caro, sia anche perché ci volevano parecchie ore per imparare a utilizzarla in maniera opportuna. Se un soldato veniva ferito, l'altro doveva recuperarla e ovviamente doveva saperla usare. Era un po' complessa. Allora, il signore ci parla un pochino della storia di Carlo Guzzi. Voilà. Carlo Guzzi, in effetti, c'è un pilota di chasse. Era un pilota di caccia. dell'armata italiana. Della armata italiana. Della armata italiana. Prima guerra mondiale. Nella prima guerra mondiale. Durante la prima... Quindi, il fa la guerra con il suo copain. Il è un copain che si chiama Parodi. Ha fatto la guerra con un compagno che si chiama Parodi. Voilà. E il decide, se il survive alla guerra, di creare la propria marca di moto. e ha deciso di creare la propria marca di moto se fosse sopravvissuto alla guerra. Voilà. Quindi, dopo la guerra, vi mostro la parola. Suivemo, se volete. Voilà. Là, abbiamo una collezione straordinaria di moto che sono in età di marche. Ah, queste sono delle Guzzi veramente che funzionano ed è una collezione veramente straordinaria. Voilà. Quindi, per arrivare a Carlo Guzzi, dopo la guerra, Carlo Guzzi va fabbricare sua propria marca moto Guzzi. Carlo Guzzi comincia a fabbricare appunto le proprie moto con il nome e il cognome suo. Carlo Guzzi adora la competizione. E' un fanatico della competizione. E' un fanatico della competizione. Per cui, vediamo. Quindi, tutti i progrès che va mettere su queste moto di corso, va rimettere sulle moto di civile. Ah, tutte le diciamo le novità, le innovazioni che mette nelle moto da corsa, lui le mette anche sulle moto che praticamente fanno parte della produzione di serie. Per cui sono delle moto molto belle e competitive. ecco. queste moto che vedete qui funzionano tutte queste moto che vediamo. ci sono ci sono che da l'inverno non ha partecipato, ma abbiamo fatto l'ouverture dei ultimi Bolldor diciamo che ha fatto il corteo di apertura alla Bolldor alla gara vera e propria e qui siete a Marseille? sì, c'è a cote ah proprio qui accanto a Marsiglia mentre Le Mans o è Tetele? Le Mans non, Le Mans è al nord della Francia Le Bolldor è un circuito di Castellet non l'interno, a 20 km a Castellet che è qua, a circa 20 km da Marsiglia Le Bolldor è una corsa internazionale di resistenza appunto 24 ore esatto quindi queste moto là erano moto di corse ma molto a punto era una moto da corsa veramente molto efficace è molto potente sì, sì quindi voi andate qui le moto di corse hanno vinto per parecchi anni molto rinomate e hanno vinto per parecchi anni molto rinomate 69 esemplari costruiti solamente questo è un esemplare del 69 in le anni 60 come è più efficace perché c'era il y avuto il y avuto il japonese che arrivano e Yamaha TZ eccetera molto più rapido che questo 20 moto si chiama le condore le condore le condore 20 moto come questa sono prite per la guarda volante la guarda per fare le moto di intercessione i giapponesi sono arrivati negli anni 60 e hanno fatto delle moto che erano superiori come velocità a quelle italiane le guzzi che hanno fatto le 20 moto che hanno fatto con le 20 moto queste 20 moto inoltre sono rinomate perché erano più efficaci sono rinomate per la guarda volante la guarda volante la guarda volante la guarda volante la duana la duana ah bene 20 moto di queste sono state recuperate dalla dogana che le ha utilizzate perché vabbè non erano più competitive come quelle del periodo precedente non erano più competitive perché c'erano le giapponesi questa è del 1929 la sport 14 si si i primi modelli i primi modelli i primi modelli i primi modelli sono nel 1921 e sede di vanuit 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 questa è del 2829 allora poi c'è l'evoluzione sport 14 sport 15 ecco dopo c'è la sport 15 la s la s poi qua c'è la s la f v z v v poi c'è la v w la w è è una è una mentre quest'altra è una 250 c'è più popolare perché si è molto in italia le tasse erano molto elevate per le cilindrate grosse per cui i costruttori cominciarono a fare delle due cinquanta piuttosto che delle cinquecento di san san canto si a 175 questa è questa si è anziennes questo è il piccolo ciclomotore italiano della guzzi ed è che l'anno anni cinquanta sembrava prima fino agli anni sessanta l'anno fabbricata e che le tela si lanterà 65 di cilindrata sette del campo 4 tanto questo era una due tempi e sarule a che vitesse forse andava circa 60 km l'ora ecco il guzzino aveva due velocità era un ciclomotore molto piccolo molto economico e ce n'erano un sacco il signore dice che ce ne sono ancora in piemonte che funziona la norton questa è stata due volte campione d'inghilterra degli anni venti motore magnesio unico mondo unico al mondo e quel ciclomotore era una seicento e le tè puissante 180 km a 100 4 circa 180 km oh mon die 180 km orari questa invece la guzzi di cui parlava poco fa è circa 160 km un bel vitezza per le tempi sì 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 c'era molto rapido per l'epoca soprattutto non aveva molta fregni per il mio Luqued in 1922 il freno è stato inventato dal signor Luqued nel 1922 nel 1922 ma era raramente montato sulle sulle moto la gente preferiva il freno a tamburo e molto probabilmente va beh era anche per una questione di costo per tetra sa cote più scelta ma forse ma forse ma legger preferì chi connessi va bene non diciamo non era perché costavano di più la gente preferiva quello che conosceva per cui non voleva cambiare e se un young book book sette a moto francese non fa francese autrichi ea era una moto della dell'austria austriaca più che noi diciamo book avevamo ai tempi qualche qualche moto da cross negli anni settanta ricordo si è una piccola moto che non costava tanto e funzionava molto bene che silandro e tetti ecco questa era una 250 c'è un cartone naturalmente quattro tempi bianca e la data bucù di moto francese e anglaise per voi espliquer nella rivoluzione industrielle la rivoluzione industrielle a due pei emergenti c'è a dire che chi va a bordo non so fare la compétition a entro ces due pays e sarà fermo il progetto allora durante la rivoluzione industriale diciamo che le due i due paesi che andavano più forte per quanto riguarda anche la fabbricazione di moto erano la francia e l'inghilterra e l'inghilterra ci sono delle moto di marco terrò ci sono delle moto di marco terrò terrò magna debon si appartiene a te rossi si le même fabbricazioni di macchine il po le même chose a magna debon e pare il tiro si è vabbè praticamente c'è stata una fusione tra le due ditte e è il fabbrica e ossì de voiture appara uscè le mande motociclette non vi tricc più dove c'è qualche petite voiture cabriolet facevano anche delle macchine ma piccole cabriolet ma diciamo la loro specialità erano le moto par contre un peu comisave un peu la mentalità e comanda c'è da dire chi aveva sulle macchine non puoi choisir scumule tutto il tuo catalogo è l'opzione non puoi choisir non la più l'euro c'è l'opzione guarda le sette color la c'è l'evento d'origine l'evento per l'intero fette un attimo e la couleur sul carter la culo d'origine diciamo che i colori si potevano scegliere sul catalogo e sul carter c'era il colore d'origine erano per tutti per la corsa per i lavoratori e il fondi per i lavoratori e questo era una moto sportiva mentre questa era per le lavoratori e questa era pure sportiva l'abbiamo già vista ma la rivediamo perché è molto molto bella molto caratteristica e c'è qu'è ce che c'è lì a ici dedans vous pouvez mettere le documento non puoi mettere più precisi ma la chambre aere e per permettere la camera d'aria e gli attrezzi in caso di panna di panna di gomma c'è la sigla o de gamme questa è la gamma alta della terror è compiante cilindrica è un monocilindrico da 500 centimetri cubi o de gamme de che l'année è del 1935 un anno più giovane di della mamma mamma è di 34 allora si è fresco all'epoca e all'epoca degli anni 30 nel 1930 e più di 500 marco francese a negli anni 30 ci sono più di 500 marche francesi e alla stessa maniera anche gli inglesi palesi italiani italiani ce ne sono ancora pochi ma c'è c'è dommaggio perché in italia le tempo e c'è specialmente al sud dell'italia il y a un beau tempo tu puoi rouler e pendant beaucoup di mois pendant l'année parce che è la temperatura c'è buona c'è buona c'è buona c'è buona c'è la temperatura per le moto nonostante diciamo questo e ma il y a ici a il y avessi anni 30 un ripandissement dell'achat delle moto perché è perché il costello meno delle voiture quindi se si on riuscita al primo del 20e secolo le persone a quali si sono inizia a di più inizia a di più inizia a di più inizia a e la gente allora camminava in moto a piedi in battello oppure a cavallo e allora già la moto era una grande conquista le macchine ovviamente costavano ancora parecchio ecco andiamo a vedere uno dei primi modelli guardate che bella moto moto sacoche 1904 1904 1904 semblait come la biciclette ecco i fratelli d'uffo sono del degli ingegneri che fanno la moto sacoche e sono molto intelligente perché le persone hanno peor di tommo in panne con il motore e hanno peor di non andare a lavorare perché il motore va a casser quindi i fratelli d'uffo che fanno? fanno il motore detacabile e gli donano i meccano e gli continuano a rullare dice che questi fratelli sono geniali perché hanno fatto il motore staccabile in caso di panna vedete qua ci sono le staffe che si possono togliere in caso di panna ovviamente si smontava si dava al meccanico e si andava come con una normale bicicletta esattamente guardate per esempio la vecchia questo è il portabagaglio ah vedete questa qua che era il cavalletto ruotandolo diventava un portabagaglio andava in alto sei un buon'idea buon'idea i pneumatici sono del 1904 sono originali io vorrei fare lo stesso con la mia macchina ma purtroppo li devo cambiare molto spesso costano cari io vorrei fare questo con la mia macchina ma devo cambiare molto spesso e costano cari e qui sono molto rari sono molto rari nel 1904 certo sono ancora gonfiati da no 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 lui ha quasi all'anteriore sono ancora conti e insomma ecco indiana e harley le due moto la rossa e l'indiana la verde oliva e l'arley e se sono dei moto di quel periodo allora c'è il début del XX secolo e all'inizio del XX secolo per cui del novecento inizio del novecento 1913-1917-18 e dal 13 al 1917-18 queste moto la sono molto evolute per l'epoca queste moto sono più grandi delle moto europee c'è la même chose per le voiture le voiture americaine des années 40 e specialmente des années 50 sono molto lunghe sono molto lunghe le macchine americane degli anni 40 anche quelli degli anni 50 40 e le moto e le voiture oh magari c'è molto spazio esatto c'è molto spazio allora hanno delle le strade sono dritte e c'è molto spazio è molto spazio big grande moto confort confortabile è anche molto confortevole questa indiana un motore un motore abbastanza grosso 1000 cm 1000 cm era un 1000 di cilindrata un po' inusuale due cilindri due cilindri due cilindri si già all'epoca voilà queste moto hanno fatto la prima guerra mondiale hanno fatto la prima guerra mondiale queste moto voilà si si ma le eh elle était puissante pour le tâmp erano anche potenti allora ça allait pas très vite mais c'était capable de tirer des grosses remorches ah non era molto veloce però era capace di tirare anche dei rimorches eh moto con si o dei piccoli cannoni addirittura erano moto ovviamente con una certa coppia questo è un sidecar della della guzzi ed è molto raro questo fatto che sia cabriolet che abbia appunto la possibilità di alzare la capote di entrare vedete molto comodo ecco questa è una guzzi sede che l'anè 1929 questa è del 1929 è una sport 14 ecco molto bella guzzi funziona funziona regolarmente pass on va voir la deuxième guerre mondiale la deuxième guerre mondiale la deuxième guerre mondiale les français ne sont pas considérés comme vainqueurs de la guerre les vainqueurs de la guerre etats-unis i vincitori sono gli stati uniti russi la russia angleterra e l'inghilterra la france ne va plus avoir de matières premières la france la france non ha più materie prime per costruire delle auto oppure delle moto quindi solo Renault Peugeot Citroën possono continuare a fare delle voiture allora soltanto Renault Peugeot e Citroën possono continuare a fare delle automobili il signore dice che i francesi come gli italiani e gli inglesi sono molto conservatori e che tendono a tenere sempre la moto del nonno del bisnonno e naturalmente questo porta i costruttori a fermarsi un po' si allora il signore diceva che dopo la guerra e 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 buon marchio che tutto il mondo poteva spiegare, che è la motore popolare, ciò che ha fatto, ad esempio, in Italia la Fiat 500 e in Allemagna la Cossinelle. La Cossinelle, si dice che praticamente un po' un colpo alle moto è stato dato dalle piccole utilitarie, come le due cavalli della Citroen in Francia, la 500 in Italia e la Cossinelle il Maggiolino in Germania. E avanti la Ford T in America? E prima la Ford T, la Ford T in America, va bene, ma questo è all'inizio del secolo, sì, sì, perfetto. Il y a dei milioni e dei milioni di tonne di materiale, ci resta abbandonati. Ah, sì, di giù, di dodgi, di cinque quarti d'arri, eccetera. A Normandia la plupart del materiale è interrata, con le pelle di cani, e ha fatto tutto questo in terra. Ci sono molti materiali dopo la guerra che restano abbandonati, sono delle auto, praticamente in Normandia addirittura li hanno sotterrati. E' più un mè di questo materiale, c'è un materiale dell'armamento, c'è un materiale che è ben entretenuto, che è proprio, che funziona bene. E' un materiale dell'esercito che funziona bene, si può utilizzare. Voilà, quindi il governo francese ha creato le domenze. E il governo francese ha creato le domenze. Le domenze, c'è di vento d'ancher, in l'eau, in l'eau per tonne. Ah, proprio da questo materiale a tonnellate. Voilà, quindi per non costruire, per non costruire, a prezzi buoni. Si possono costruire un po' e costruire beaucoup de moto avec ce materiale. Non, 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 c'è che le persone, quando d'acheter du neuf, le recuperano queste moto all'europegno e le recuperano. Ah, praticamente recuperano appunto queste moto dall'armata, dall'esercito, e le ridipingono, le riutilizzano. Una moto come questa all'epoca, 5€. E allora praticamente i costruttori ebbero una batosta dopo la guerra, perché appunto c'erano dei materiali che si potevano riutilizzare. Passiamo dagli anni 60 fino agli anni 90. Ecco le moto giapponesi, principalmente. italiani. On revient sur les solex pour vous expliquer pourquoi on va avoir du mal, et que tous les costruttori européens vont fermer, pratiquement tous, vont fermer au début des années 60. All'inizio degli anni 60 tutti i costruttori chiudono, molti costruttori chiudono. Alors pourquoi il ferme, encore une fois, beh, il y a, ce que je vous ai dit, manca de matière première, trop de matériel de l'armée à disponibilité pas cher, et surtout l'arrivée des japonais. La crisi appunto est determinata dalla mancanza de materiale primi, materiale, diciamo, base, poi praticamente per tutte le moto che si trovavano dell'esercito per strada, per cui si recuperavano quelle, poi c'è l'arrivo dei giapponesi che dà una bella batosta al mercato delle motociclette. Ils vont récupérer tous les brevets qui ont été abandonnés par les européens, qui n'ont pas été protégés, et ils vont avoir l'audace de les sortir, mais sur une seule moto. Le culot. Le culot. Dicono che recuperano i giapponesi tutti i brevets europeux e li utilizzano su una singola moto. Vediamo quale è questa moto. La moto, s'appelle l'è? Ça, c'est la Honda Four. Questa è l'Honda Four, l'Honda quattro cilindri. C'est pour vous montrer ce qu'il y a... Ça, c'est une moto de l'ère moderne. Si, c'est une moto de l'époque moderne. Si, c'est une moto de l'époque moderne. Si, c'est la silencieuse... 750. 750. Oh, c'est la mia mauvaise. C'est la moto qui a contribué à la perdite des costruttores europeux. Elle est sortie en 1968. Elle est sortie en 1968. Elle est sortie en 1969. Elle est sortie en 1969. Et ça va être une révolution. C'est une révolution. Pourquoi ? Regardez. Les couleurs... Les couleurs... Les couleurs candy, les rouges candy, les palettes, les métallisées. Les couleurs métallisées pour la première fois. Double disque devant. Simple double disque en option. Doppio disque. C'était de quelle année ? 1969. L'ère de 1969, si. Moteur 4 cylindres. Quattro cilindri de motore. L'esthétique. Belle moto. Super belle moto. Una belle moto. Plus performante. Plus fiable. Il ne fait pas d'huile. 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 sanitario, loro hanno messo tutto su una moto. Tutto messo su una moto, i dischi sono inglesi. Un po' come negli anni 80 con le 4.4. 4.4 negli anni 80 aveva 1% del marchio japonese, negli anni 90 sono 87%. La Z va a detronare la 750. Addirittura questa va a detronizzare la 750 dell'onda. C'è la 900. Diciamo, toglie il primato alla 750 che avevamo visto prima, mentre questa è una 350. Che vitesse potete raggiungere? La Cela è di 220 km orari. Addirittura, sempre una quattro cilindri. Sede del 73. Questa è la moto Solex con il motore anteriore. C'è già ben dopo i primi giorni. Sì, allora c'era per chi, madame? E' di quel anno? Le 42. Le 42. Le buone solle? No. 62. C'è la colla? No, no. Guarda le ruote, sono piccoli. Le giovani? Le giovani? C'è il campanello in opzione. Diciamo, questo è un accessorio. Il contorno di vitesse? Addirittura c'è... Conta... Questo è un velo Solex 45 cm3 del 1946 fino al 1953. E qua c'è per esempio un bidoncino che veniva usato per fare la miscela, visto che erano due tempi, ed averlo a disposizione. I Solex sono i più venduti al mondo. A partire di Sennè, apre la guerra. Subito dopo il 1946, giusca a che l'annè? Giusca a... Sono ancora fabbricati nei paesi dell'est. Ah, sono ancora fabbricati nei paesi dell'est. Ma in Francia... In Francia non. No, no. Abbiamo fatto un Solex elettrico. Il Solex. Ah, il Solex elettrico, adesso. Abbiamo la forma del Solex tradizionale, ma non c'è più il motore elettrico. Ah, lì ha... Oh sì, adesso, no? Sì, sì, sì. Forse, dico, faranno un motore Solex che riprende la forma così per avere qualcosa di retroma elettrico. Ormai tutto va verso l'elettrico. Questo era 45 centimetri cubici. E l'altra qua. A presto là, c'è il 330. Poi c'è il 330. Il 1010. Il 1010. Voilà. No, il 660. Il 660. 1010. 1010. A presto il 2002. Il 2002. Il 2002, di cui si ricorda la signora. E c'è sempre dei 50 centimetri? C'è sempre dei 49 centimetri. Sono sempre dei 50 di cilindrata, cambiano semplicemente le sigle. Voi avete il Micron, il Solex Micron, che è stato costruito lui per la prevenzione routier. Ah, questo è proprio il Solex Micron, il piccolo. Per i bambini che andavano a scuola. Per la sicurezza routier. Ma i Solex hanno fatto altro anche. Hanno fatto... Guardate, questo è molto piccolo. Guardate, il petit Trottilex. Il piccolo Trottilex. Ecco, il piccolo Trottilex. Questo è per i liceali. Questo è per i liceali. E c'è di che marca? Moto Beccane. Ah, Moto Beccane. È una Moto Beccane per i liceali. Voilà. Per le figlie, il trottore Moto Guzzi. Il trottore della Moto Guzzi. Degli anni 70. Degli anni 70. Io ne ho avuto uno, una Juve come questa, ma c'era un po' più moderna. C'era la Moto Guzzi, un trottore. Il petit Trottilex che vous voyez ici, là. Vous voyez cette petite allineine là? Il était complètement pliable. Questo era completamente piegato. Cioè, si poteva piegare, pieghevole. Si poteva mettere nel cofano della macchina e raggiungere la città. In 1954. Fabricazione Nantes. 64, Nantes. Vole normale? Si, non si mette le mie. Allora, questo modello si chiama Graziella. Graziella, mia sorella, sarà contenta di vederlo. Che non aveva un bicicletto a Pelé e Graziella, in Italia. Esatto. Il Fese... Il Fese... Il Fese... Il Fese... La Graziella, la sella è super confortabile. Ah, sì, sì. La suspension all'arriere e all'avant. Ah, sì, sì. Molto comportevole. C'è la sella confortevole e le sospensioni avanti e dietro. Il Fese del curato che ha visitato le Fidelle. Sì, guardate, questa è la prima mobiletta moto beccana d'après-guerra. Questa è la prima mobiletta moto beccana. Lì, c'è la prima. Qua, perché è uno dei concorrenti del motore Solex, sempre in avanti, però è più comportevole, è più veloce. Allora, c'è un mélange delle due marche. Ah, è una fusione tra le due marche, Triumph e Norton. Tri, Triumph, che è scritto Triumph, che è scritto Triumph e poi sono le due marche fuse assieme. Se in un motore e in un motore di quel periodo... Questo è degli anni 70. Io vi spiego un po' di cosa c'è. Nel 1930, in Inghilterra, c'era un piccolo bistrò a Londra, che si chiama l'Ice Café. Nel bistrò, c'è dei giovani che si rinforzano e parlano delle moto. E hanno l'idea di trasformare delle moto per le personalizzate, per che la persona sia la stessa. Diciamo, si incontrano dei giovani che bevono la birra e poi vogliono trasformare delle moto. Quindi, si prendono dei morcei di moto, che si assemblano su una. C'è a dire, Triumph, il motore della Triumph, che è un molto, molto buon motore. Il motore della Bonneville, della Triumph. I ragazzi assemblano insieme diverse moto. E il quadro e l'abbillaggio della Norton. E mentre il telaio e la forma sono della Norton. Voilà. Allora, questo è stato fatto alla mano. Questa è fatta a mano, proprio la tanca. E avete un freno, non ho detto, che è un freno che è fatto all'unità. Il freno è magnifico, è una piattacia. E questo è un freno, ma se è un freno, se è un freno, se è un freno a disc? No, no, è un 4 cam. Ah. Il 4 cam è chiamato. Non, c'è, c'è la customizzazione. C'è un freno, si direi, ma... Ah, voilà. Il freno è appartenuto a Mark Wilsmore. Mark Wilsmore, c'è il figlio del creatore del Café Racer. Ah, dai. Il caffè di Ice London. Era il nipote, diciamo, del creatore del Café Racer. Coffee Race, che è appunto un tipo di moto. Voilà. Milnefsa? 72. Ah, questo è del 72, la Triton. Non c'è una moto uguale a un'altra, perché il Café Racer è, diciamo, qualcosa che viene molto personalizzata da ognuno, da ogni cliente. Il signore dice che praticamente dopo la guerra, molto probabilmente, sono stati costruiti gli scooter, perché erano delle, diciamo, delle cose, delle parti di aereo che sono stati e sono state riutilizzate. Sono delle ruote d'aereo, praticamente, vengono utilizzate. E questo là, il ruote è un'aluminio, è un'aluminio, è un'aluminio, quindi ci sono resti di un'aluminio militare, di un'aviation, eccetera. Il è un formaggio formidabile, questo. Il ruote è un'aluminio, è un fabbricante di battelli in alluminio del XX secolo. Rumi. Il ruote è un'aluminio, nel 1950 si cominciano a fare dei picilindrici, bicilindri, due tempi. 55, con un sound straordinario. Molto cari però, eh? Molto cari, quindi, molto rari, ben intendo. Cari e rari. Formichino, formichino, formichino in Italia. Formichino? Formichino, petit formi. Ah, formica, formica. La formi, la formi. La formica. La formica. Com'è la... Formica, formichino. Formichino, formichino. Allora si chiama formichino, per dire che era piccolo. Che, chi le petì? Guardi, la testa è della formica, dice lui. E, eh, 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 potete? Ah, italiano, Moto Guzzi. Moto Guzzi. Galetto. 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 Questo è il galletto della Moto Guzzi. Vedete? Il piccolo. C'è il scooter o è il moto? Ah, no, non puoi dire. Moi direi che c'è un scooter. C'è il moto. Un scooter. Un scooter. Eh, beh, beh, c'è ça. C'è, 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 c'è. C'è, 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 c'è. Allora, un pet, c'è un ibrido. È un ibrido. E la moitié di moto. Mezzo scooter e mezzo moto. È la qualità della moto, con le grosse ruote. C'è un ruote, eh, per la tenue di ruote. Per la tenue di ruote e per la mania di vita. E Rodan ha fatto un trucco un po' equivalente. Ah, sì, da noi ancora. On a il XRB, un po' più tutto, in tutta somma. Le ruote sono da moto e... E la protezione del scooter contro il vento e la pluie. E ha la protezione dello scooter contro il vento e la pioggia. Le primi, in 1947, in 1947, in 1966. E in 1960, il demarreur elettrico. Ah, comincia pure il demarreur elettrico, che sarebbe l'avviamento elettrico. E can't command still? In 1960. Nel 1960, comincia. Avanti, non ho capito. Il demarreur elettrico, nel 1960. Il primo ha preso la guerra, nel 1949, un trucco come questo. Ah, il 49, il primo. Portevole, doppia sella, ruota di scorta. La nominazione ACMA. La marca Vespa era costruita in Francia con la denominazione ACMA. 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 Noi, siamo venuti a ACMA, con il faro sul guidone. In Italia c'erano il faro basso. Ah, in Italia c'era il faro basso. Loro invece hanno fatto proprio il faro in alto, nella guida ACMA ha cominciato con questo tipo di fari. Questi sono più cerchi che le lambrette. Ah, qua dicono che il mercato, praticamente, dell'usato, le lambrette costano meno delle Vespa, e mentre in Italia è un po' il contrario. Ça, ça, 6.000 euro. 6.000 euro. Globalis. Questa costa 6.000 euro, la rally. Ah, ah, non sa se è buono che c'è, sa. Allora, ça c'è Peugeot. Ah, ça c'è Peugeot. Peugeot, del 57. 57, del 57. Ah, perfetto, c'era anche, diciamo, il bagagliaio per fare le commissioni per le signore. Uno scooter francese. Uno francese. Les patrons. R, R, R. Bernadé. 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 R, R, R. René, Roger e Robert. Les 3 frères. René, Roger e Robert, il nome dei 3 fratelli, i 3 fratelli che fanno una moto. Allora, les 3 frères, le loro nomine famille, c'est Bernadé. Bernadé. D'accord. C'était le père qui venne sorti la boîte, juste après la guerre. Ah, l'accordo. Et il fabrique des petites bagnole. Mais comme on a parlé tout à l'heure. Des tricycles peut-être aussi, des petits petits rottos en Rome, des voitures. Voilà, vous les avez là. Des petites cabriolets. Voilà. Voi, ces cabriolets. Costruiva delle piccole auto, delle piccole cabriolets in passato, il padre, prima della guerra. Ce ne sont plus les matières premières, donc ils vont construire des scooter pour l'armée française, pour la guerre d'Indochina. Et puis, ils ont commencé à construire des motos pour la guerre d'Indochina. Alors, les constructeurs sur ces ingènes là, ils ont, peut-être que vous n'avez pas compris, mais on va dire à la dame, ils ont marqué quelque chose de symbolique sur l'ingè. Et on voit, dans la construcció, un symbole français. Nella construcció, c'est un symbole français. Alors, dites-moi lequel c'est. Un symbole. Et un peu... Le bleu, blanc, rouge? Non. Mieux. Vous pouvez faire mieux. Regardez bien. Vous le savez, quand vous allez... C'est pas le casque gaulois. C'est pas mal, ça. Vous y êtes le casque. Le casque gaulois avec les ailes du casque gaulois. Sembra il casque gaulois. Oui, oui, oui. Vous êtes presque. Si vous êtes sur la bonne voie. Fouca, fouca, foucchino, ci state arrivando. Pas plus français que ce que le casque gaulois, je ne vois pas bien. Ah, presque. Ah, je... Comment peut-être, j'ai triché, j'ai vu le bonnet frégé. Oui, j'ai vu le bonnet frégé. C'est la forme du bonnet frégé. Le bonnet frégé, venez voir. Il cappello friggiano, della friggia, della rivoluzione francese. Questo è il simbolo francese di questa moto. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non est pas venduée, C'est pas encore en fait la eh Il faut faire la tempeira. Et on a un autre híbride Gnomron. Specialista di vetture sportive inglese Griffith Nel 1969 cerca una moto per lui Non ne trova E ne fabbrica una lui Prende dei pezzi di moto e di auto Il motore c'è un motore 4 cilindro Porsche A356 Il primo modello ve lo vede ici Guardate il motore Porsche Il va prendre Prende dei pezzi della BMW Come la tanca E le ruote Anche il telaio E mette un motore dentro E' tutto in alluminio Il supporto è pure in alluminio Vieni a vedere per l'Italia Alluminio Fiat 500 E l'avviamento è della Fiat 500 Ecco Le pipe d'admissione che vedete qui Sono a doppio effetto Queste pipe sono a doppio effetto E il passaggio dell'olio E c'è il passaggio dell'olio Porsche San Bim E la cilindria è del SEMOTER 1300 cm Era un 1300 cm3 Ora vedete il contor Come il è bello C'è il 1200 Black Shadow La forsella Norton E' una bella Ducati Questa era la prima Ducati E questa è una replica E questa è una replica 750 a due tempi Allora E questa deve essere Vraiment Puissante Accelerazione terribile Pessima tenuta di strada Freni scarsi Però Accelerazione Invidiabile Perché era Una a due tempi Una 750 La chiamavano Quella che crea le vedove Cioè insomma La moto che uccide Questa era la moto Della guardia presidenziale Di De Gaulle Con il SEMOTER San Vazenco Questo era il rumi Da competizione Che faceva la Milano Taranto Dalle Sannei Negli anni 50 Con Vespa Rumi L'Ambretà Le Peugeot C'era tutta questa corsa Che includeva anche le altre marche Un dollar che è della regione lionese Come costruzione Ed è una trasmissione a Cardano Del 1930 Anche questo è un dollaro 500 E l'altro si è 500 o si? L'altro si è 350 Mentre quello di dietro è 350 Di cilindrata Ma la marca ha disparito La marca ha disparito Allora Le due là Devete equipare Dei fameux motores Che aveva lo stesso motore Che aveva lo stesso motore Che è la boata a vitesse Che è include nel motore Il cambio è incluso nel motore Questa si chiama Autobiru Ce ne sono state soltanto 8 fabbricate Fabbricazione francese E sembra una macchina Ma è in effetti una moto Ed è stata fabbricata Se è autobiru Biru Autobiru Autobiru Cattos